Monta la tensione alla raffineria di Gela, questa mattina gli operai della nuova ex gamma hanno protestato in merito ai quattro licenziamenti comunicati dall'azienda. La situazione si è fatta realmente preoccupante, l'indotto è una polveriera. Ieri c'è stato l'incontro all'ispettorato del lavoro e hanno confermato, si è chiusa la procedura e hanno confermato tre licenziamenti e il 21 ce ne sarà un altro già confermato che è solo formalmente l'incontro all'ispettorato del lavoro. Quindi quattro licenziamenti. Quindi oltre al danno, la beffa, il danno economico che si aggrava sulle famiglie e la beffa dei licenziamenti. E come fate ad andare avanti? È difficilissimo, non riusciamo più ad andare avanti perché non riusciamo più ad arrivare nemmeno a metà mese, non a fine mese. Si aggrava tutto sulle famiglie, sui figli e questo è insopportabile nel momento di crisi di oggi. A parte che Ronex Gamma non ha voluto sentire di aprire ammortizzatori sociali, noi abbiamo il contratto quadro in raffineria, è stato proposto di aprire la Cigo e altri ammortizzatori, si sono rifiutati perché fino al mese scorso abbiamo fatto straordinari. L'anno scorso protestavamo noi per quanto riguarda la nostra azienda per lo stipendio, adesso sono arrivati i licenziamenti, quindi qualcosa è cambiato nella sostanza. In peggio? In peggio. E quindi il Natale per le nostre famiglie si prospetta non un buon Natale ma un cattivo Natale. Si è parlato addirittura di riconversione dello stabilimento che avrebbe dato la possibilità a tanti di lavorare, invece così a quanto pare non è? No, non è perché la conversione ancora deve partire, quindi parleremo di conversione nel momento in cui si verifica, ancora è tutto sulla carta e vedremo i risultati quando saranno pronti. Adesso si parla e basta, tra il dire e il fare di solito passa il mare.